Come ottenere risultati fisici in pochissimo tempo? Ascoltami bene, semplicemente non si può. Sì, oggi voglio fare questo video perché mi sono un po' rotto le palle di leggere persone che mi inlantano risultati in due settimane, in tre settimane. Quello che voglio lanciare oggi è un messaggio importante che ognuno di noi ha delle tempistiche per i quali si possono raggiungere determinati risultati. Ovviamente questo è dettato dalla genetica e anche dettato da come ci si allena. Il mio consiglio spassionato è quello di seguire un piano di allenamento, un piano alimentare che ti consenta nel tempo di insegnarti un'abitudine corretta e quindi uno stato di benessere generale che poi nel tempo si rifletterà anche a un miglioramento fisico. Mentre per tutti quelli che cercano risultati veloci mi dispiace, questo non è il contenuto, è il profilo giusto. Quello che voglio lanciare ogni giorno è un messaggio importante che con la corretta strategia alimentare, e con il corretto ordine degli esercizi si possono raggiungere dei risultati fisici tangibili. Ma, come sempre, ci vuole il giusto tempo.